Al via la vaccinazione del personale degli uffici giudiziari esplode il caso degli insegnanti con patologie pregresse che per questo motivo non hanno ricevuto l'AstraZeneca ma che non possono accedere agli altri perché riservate agli over 80. Continua a preoccupare la curva epidemiologica nella città di Sciacca che dopo i nuovi 12 positivi di ieri al momento registra 74 contagiati, l'ex consigliere comunale Silvio Caracappa chiede nuove restrizioni per frenare la movida cittadina. Calcinacci vengono giù dal cantonale del convento di San Francesco, sono stati vigili del fuoco e chiedere all'amministrazione comunale di chiudere la via Agatocle, il bene di proprietà del demanio regionale. La diaspora interna al Partito Democratico Argentino e il deputato regionale Michele Catanzaro respinge le accuse di presunte irregolarità e rilancia. Il nostro candidato per la segreteria provinciale rimane Simone Di Paola. Truffe online, un agrigentino ha presentato una denuncia alla Polizia Postale dopo essersi visto addebitare tre pagamenti per acquisti che non erano mai stati fatti, l'uomo ha riferito di essersi limitato solo ad aprire un sms che aveva ricevuto. Un adduttore mai entrato in funzione che rischia di trasformarsi in una cattedrale nel deserto, stiamo parlando del Gammauta inaugurato nel 2011, costato quasi 25 milioni di euro eppure l'agricoltura della zona ne avrà bisogno. Benvenuti al nostro telegiornale campagne di vaccinazione dopo gli operatori scolastici e le forze dell'ordine a sciacca da ieri è iniziata anche la vaccinazione degli operatori del Tribunale, ma intanto esplode il caso degli insegnanti con patologie varie che non hanno potuto effettuare il vaccino AstraZeneca ma non possono accedere ai vaccini Pfizer o Moderna riservati al momento agli over 80. Rischiano di essere dimenticati così come soggetti fragili. Ne parliamo nel servizio. Va avanti all'ospedale Giovanni Paolo II la campagna di vaccinazione contro il Covid che negli ultimi giorni ha interessato magistrati e personale amministrativo in servizio al Tribunale di Sciacca dopo il personale scolastico e le forze dell'ordine. La somministrazione del vaccino agli operatori della giustizia era stata annunciata alcune settimane fa dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza e i presidenti dei tribunali erano stati sollecitati a trasmettere l'elenco dei magistrati e del personale che intendevano aderire alla campagna di vaccinazione. Al Tribunale di Sciacca sono già stati vaccinati la metà degli operatori tra magistrati e dipendenti. Va avanti anche la somministrazione dei vaccini a forze dell'ordine personale scolastico, le altre due categorie individuate tra quelle rientranti nei cosiddetti servizi essenziali. Anche per loro si è in una fase avanzata, parliamo ovviamente solo della prima dose, ma rispetto ad altre zone il punto di vaccinazione all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, pur nella limitata disponibilità di dosi, sta procedendo speditamente. Sono una quarantina le prime dosi di vaccino AstraZeneca e 40 di Pfizer riservato agli over 80 che giornalmente vengono somministrate, mentre il vaccino Moderna viene utilizzato per la vaccinazione a domicilio degli ultraottantenni. Tutto bene dunque, non è proprio così, posto che al problema della carenza delle dosi si aggiunge anche la situazione di quanti non hanno potuto effettuare il vaccino AstraZeneca ma non hanno neanche accesso al Pfizer. Sono tutti quegli insegnanti ad esempio, ma il problema riguarda tutti i soggetti rientranti nei cosiddetti servizi essenziali che avendo diverse patologie si sono presentati all'appuntamento al centro di vaccinazione, ma hanno scoperto che a loro il vaccino AstraZeneca non poteva essere somministrato. Devono essere vaccinati con il Pfizer o il Moderna che però sono destinati al momento agli ultraottantenni e con le disponibilità attuali e le prenotazioni che arrivano fino a maggio il rischio è che tanti insegnanti con patologie, dunque quelli più fragili, rischiano di essere dimenticati. E' quanto hanno evidenziato alcuni di loro rivolgendosi alla nostra redazione. Insomma, la campagna di vaccinazione contro il Covid rischia di lasciare indietro le persone più fragili e il problema sta nella tipologia del vaccino loro riservato. Con AstraZeneca si va avanti più speditamente, ancor più con il dialiber al suo utilizzo anche gli over 65 e infatti sta per essere addiata la prenotazione per circa 500.000 siciliani tra i 70 e i 79 anni, a condizione ovviamente che non soffrano di patologie varie. Gli elenchi degli eventi diritto sono già stati acquisiti da poste italiane e caricati sulla piattaforma adibita alle prenotazioni, anche se per l'appuntamento tutto dipenderà poi dalle dosi di vaccino disponibili. Al momento non è previsto che gli esclusi possano ricevere una dose di moderno o di Pfizer. vaccini destinati in modo preferenziale agli ultraottantenni o alle persone più ad alto rischio di sviluppare una malattia grave. Anche in questo caso, dunque, rischiano di rimanere indietro quanti, pur rientrando nel target or ammesso alla vaccinazione, quello dai 70 ai 79 anni, per patologie varie non potranno ricevere la dose di AstraZeneca. Covid e curva dei contagi, altra giornata difficile ieri per la città di Sciacca che ha registrato 12 nuovi casi, adesso le persone contagiate sono 74, tiene comunque la situazione in provincia e anche a livello regionale, ne parliamo o non il servizio. Altra giornata nera ieri per la città di Sciacca che ha registrato 12 nuovi casi positivi al Covid, comunicati dal sindaco Francesca Valenti ancora prima che venisse diffuso il bollettino dell'aspedia grigento e così, al netto dei guariti e dei nuovi casi, è salito a 74 il numero degli attuali positivi al coronavirus in città. Nuovi casi riscontrati tutti su persone adulte, contatti di persone che sono risultate positive nei giorni scorsi, un incremento sostanziale quello che si è registrato negli ultimi giorni in città dove in una settimana i contagi sono praticamente più che raddoppiati. Sempre di ieri pomeriggio inoltre, la notizia che nel gruppo delle persone positive degli ultimi giorni la Polizia Municipale di Sciacca ha individuato una donna che ha praticato il mestiere di parrucchiera a domicilio dei clienti. Essendo una pratica non consentita dalle normative, alla parrucchiera abusiva sono state contestate le sanzioni previste dai decreti di contrasto al Covid, nonché la sanzione per professione artigianale non consentita. Si presume che durante le visite a domicilio abbia contagiato alcuni clienti. A livello provinciale ieri sono stati 46 i nuovi casi riscontrati in provincia di Agrigento su 438 tamponi effettuati, 4 i nuovi ricoveri, 35 i guariti e un nuovo decesso, una persona di Raffadali. 11 le persone contagiate a Ribera, 5 a Santa Margherita a Belice, 43 a Siculiana, 14 a Montevago, 2 a Menfi, 3 a Lucca Sicula, 4 a Calamonaci, 12 a Caltabellotta, 11 a Cianciana, 14 ad Alessandria della Rocca. Ad Agrigento le persone in trattamento sono 59, 70 a Porto Empedocle, 69 a Raffadali. Sul fronte ospedaliero sono 28 i soggetti positivi ricoverati in degenza ordinaria all'ospedale di Agrigento e 5 quelli ricoverati nella medicina Covid del Giovanni Paolo II di Sciacca, 2 infine i pazienti in terapia intensiva, entrambi ad Agrigento. A livello regionale ieri sono stati 595 nuovi casi di Covid registrati in Sicilia, il giorno prima erano stati 515, i tamponi processati 22.842 con il tasso di positività che è rimasto al 2,6%. I morti sono stati 18 e il totale delle vittime siciliane del Covid dall'inizio della pandemia è salito a 4.272. La curva dei contagi anche ieri è dunque rimasta stabile in Sicilia così come la pressione nelle strutture ospedaliere. I ricoverati sono 777, il giorno precedente erano 789. Di questi 112 in terapia intensiva, lunedì scorso erano 120 e 669 in degenza ordinaria. Positivo poi il dato dei guariti, ieri sono stati 1.774. In Sicilia gli attuali positivi adesso sono 14.202, dei quali 13.425 in isolamento domiciliare. Covid boom di contagi nelle ultime 24 ore e il sindaco di Raffadali chiede a Musumeci l'istituzione della zona rossa nel proprio comune. Nel frattempo scuole chiuse e spostamenti limitati al minimo. Anche ad Aragona il primo cittadino ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine grado. A Sciacca è invece l'ex consigliere comunale Silvio Caracappa a chiedere nuove restrizioni per frenare la movida cittadina. Sentiamo. Stretta sul comune di Raffadali dopo l'esponenziale aumento di casi nelle ultime 24 ore, 69 positivi su una popolazione stimata di circa 12.000 abitanti. Il sindaco del comune grigentino Silvio Cuffaro ha firmato ieri una nuova ordinanza con cui dispone misure restrittive per contenere il contagio in attesa di una risposta dal governatore Nello Musumeci a cui è stata chiesta l'istituzione della zona rossa. Già nei giorni scorsi su Facebook il primo cittadino aveva invitato la popolazione a mantenere alta l'attenzione. Con la nuova ordinanza a Raffadali si chiudono tutte le scuole con l'attivazione della didattica a distanza e si limitano le uscite dalla propria abitazione soltanto per gli acquisti essenziali ad eccezione di quelle per i farmaci limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. Tranne per le persone ultrasettantenne le persone con disabilità che hanno necessità di farsi assistere da un accompagnatore. Stretta anche sui funerali dove la partecipazione alla cerimonia funebre e l'accompagnamento del feretro all'ultima dimora solo agli stretti congiunti e al personale addetto alle imprese funebri evitando le visite di lutto a casa. Inoltre è interdetta la fruizione delle aree verde pubblico limitazioni anche per fare attività sportiva all'aperto. Scuole chiuse non solo a Raffadali anche in un altro comune agrigentino, Aragona. Il primo cittadino Giuseppe Pendolino scrive sui social che è considerato l'aggravarsi della situazione epidemiologica locale e sentite le autorità competenti ha firmato un'ordinanza sindacale di chiusura temporanea di tutti i plessi delle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale. Anche in questo caso le lezioni proseguiranno con la formula della didattica a distanza. Insomma torna l'incubo nell'agrigentino delle scuole chiuse e delle restrizioni da zona rossa. In provincia i casi sono in leggero rialzo ma la situazione tutto sommato continua ad essere sotto controllo a parte come dicevamo in determinati comuni. A Sciacca negli ultimi giorni si è registrato un crescente aumento dei contagi, ad oggi sono 74, numero che sta allarmando la popolazione, sebbene sia da considerare il numero totale dei residenti in città che si attesta attorno ai 40.000 abitanti. In proporzione dunque la percentuale dei soggetti positivi è ancora bassa. Lo stesso sindaco della città, Francesca Valenti, ai nostri microfoni aveva spiegato che i positivi al covid sono soggetti adulti. Il mondo della scuola e della movida non sembrerebbero infatti essere interessati dagli ultimi casi. Anche per questo il primo cittadino al momento non starebbe valutando nuove restrizioni ma c'è invece chi la invoca. È il caso dell'ex consigliere comunale Silvio Caracappa. C'è troppa gente in giro e a qualsiasi orario, ha scritto ieri in una nota all'esponente di Diventerà Bellissima, sollecitando Francesca Valenti a valutare la predisposizione di un'ordinanza urgente e indifferibile che miri ad arginare i tanti assembramenti che si registrano purtroppo ancora in ogni parte della città. Comprendo la crisi del settore commerciale sono vicino ai tanti commercianti che stanno soffrendo, aggiunge Caracappa, ma non si può accettare che in un periodo di piena pandemia, purtroppo così attuale, in tanti si organizzano attorno a un tavolo per un aperitivo o altro senza rendersi conto della fase così delicata e di quanto, conclude, può essere dannosa una folta presenza per le vie della città. Sono stati i Vigili del Fuoco stamattina a richiedere all'amministrazione comunale di Sciacca di chiudere al transito il tratto di via Gatocle che sbocca in via Figuli, in corrispondenza con il convento di San Francesco da cui sono venuti giù dei calcinacci. Sentiamo. Il cedimento di alcuni calcinacci venuti giù dal cantonale del convento di San Francesco di Sciacca, straordinario bene monumentale fondato nel 1224, ha imposto questa mattina il stanzionamento e la interdizione al traffico della via Gatocle. La decisione è stata assunta dall'amministrazione comunale dietro espressa raccomandazione da parte dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un cittadino che si era accorto della presenza di calcinacci sul marciapiedi. Una situazione che è naturalmente destinata a generare disagi per la regolarità del traffico. Oltretutto la stessa prospettiva del futuro ritorno alla normalità di questa via e degli interventi necessari di sostanziale messa in sicurezza nel rispetto dell'importanza dell'immobile dovranno fare i conti con la necessità che di intervenire dovranno essere enti diversi a partire dalla regione, la proprietà dell'edificio del demanio, in uno con quel patrimonio termale che continua ad essere l'emergenza economica più importante di Sciacca, proseguendo con la soprintendenza e bene culturale di Agrigento trattandosi di un immobile sottoposto a vincolo. Il sito è particolarmente strategico anche perché funge da stazione dei pullman e a questo proposito al momento è stato deciso di spostare la fermata nell'area di fronte dello stabilimento delle terme. Siamo qui al convento San Francesco, questa mattina è stato segnalato un problema ad un cantonale nell'angolo vicino all'area del parcheggio, immediatamente ci siamo attivati per la chiusura del tratto stradale su anche sollecitazione dei vigili del fuoco. una comunicazione per la cittadinanza, la fermata degli autobus momentaneamente è stata spostata davanti all'ingresso dello stabilimento termale, abbiamo immediatamente avvertito gli organi competenti che sono il demanio perché la gestione dell'immobile ricade sul demanio e la soprintendenza sarà avvisata al più presto perché l'immobile è ovviamente vincolato. Speriamo di agire al più presto per restituire la viabilità e l'immobile alla fruizione della cittadinanza. L'assessore all'Ucicero ha fatto sapere che se la regione non dovesse disporre un intervento in tempi brevi sarà il comune di intervenire anche ricorrendo eventualmente ad una sommorgenza. E sempre oggi è stato necessario chiudere temporaneamente anche la via Pietro Gerardi, zona particolarmente vulnerabile che già più volte in passato era stata interessata da franecidimenti sempre per lo stesso motivo riguardanti le condotte fognarie. In questo caso l'intervento dovrebbe essere fatto da Girgentiacque. Per la segreteria provinciale del PD il nostro candidato rimane Simone Di Paola. Lo ha detto oggi al nostro telegiornale deputato regionale Michele Catanzaro che cerca di chiudere le polemiche con la sinistra interna del partito che ha apertamente avanzato accuse di irregolarità sulle tessere necessarie per far svolgere il congresso il servizio di Massimo D'Antoni. Il PD che problemi ha in questo momento? È la diaspora qui in provincia di Agrigento? Ma guardi, la diaspora in provincia di Agrigento è una diaspora che secondo me poteva tranquillamente essere anche evitata. Così al nostro telegiornale il deputato regionale Michele Catanzaro. La questione è nota riguardo allo scontro sulle tessere a dito dal gruppo capeggiato dalla candidata della sinistra interna, la segreteria provinciale Giovanna Iacono che ha parlato apertamente di irregolarità. La diaspora è basata sulle regole, questi tesseramenti un po'. Guardi, quando io sono entrato nel PD la prima cosa che ho fatto è quella di leggere lo statuto e il regolamento del partito. Sono stato rispettoso delle regole e dello statuto di quel partito. E ancora oggi io ritengo di esserlo. Forse in passato qualcuno ha parlato per altri di rispettare le regole, ma di fatto non le ha fatte. Io le ho fatte, io lo continuo a fare di rispettare le regole. Poi se ci dovessero essere delle regole che a me non piacciono, allora a quel punto si può confrontare per capire se ci possono essere dei momenti per poter cambiare le regole. Però in questo momento le regole sono quelle, io accetto quelle regole e vado avanti. Ritengo che il segretario regionale abbia dato il via ai congressi cittadini per avere anche lì un partito, un segretario. Tanti mesi sono stati quelli di assenza della gestione di un partito. Ora io auspico, anche se c'è grande confusione del partito nazionale, auspico nel più breve tempo possibile che si possa concludere con la legittimazione della segreteria provinciale. Michele Catanzaro poi conferma che il suo candidato alla segreteria provinciale era e rimane Simone Di Paola. Simone Di Paola interpreta la candidatura di una comunità, di una storia, di una idea di partito che si vuole trasferire per il futuro. Per il deputato regionale poi il PD non deve avere paura di aprirsi a nuove forze. Non fa bene a nessuno dividersi, ma noi abbiamo bisogno di un partito unitario. Io ho sempre ragionato in positivo, bisogna stare tutti insieme dentro il partito. Io ho un'idea progressista, che penso che sia simile a quella di Simone, di un partito democratico, di un partito aperto, aperto al confronto, di un partito che non ha paura di aprire le porte per l'ingresso di coloro i quali vogliono aderire al PD con l'idea originaria che c'era. Quell'idea originaria dove quel partito che si è fuso tra i DS e la Margherita, ma che non deve essere il partito delle Beghe. Questo è il suo commento sulle recenti dimissioni di Zingaretti. Ritengo che c'è stato anche uno scotto che viene pagato di confusione sulla politica, perché la grande confusione della linea politica tra 5 Stelle e tra PD, questa cosa è stata un po' secondo me anche elemento di contraddizione che ha portato poi a quelle Beghe interne che non servono, quelle Beghe interne che non servono all'interno di un partito. E quindi lì Zingaretti ha anticipato tutti dimettendosi e quindi aprendo di fatto un momento di confronto per capire il da farsi da qui in avanti. Catanzaro, che era stato profeta a gennaio sulla possibile alleanza che si è poi concretizzata nel governo Draghi tra PD e Forza Italia. In quel caso io ritenevo che bisognava includere Italia Viva arrivando fino a Forza Italia. Mi sono sbagliato, le devo chiedere scusa perché siamo arrivati addirittura anche alla Lega con questo governo nazionale così chiamato di salute pubblica. Ritengo che oggi più che mai il senso di responsabilità ci debba portare con i distingo a governare questo processo importante in Italia. Metterei da parte le polemiche e invece farei emergere la buona politica che serve a dare le risposte alla nostra comunità, alle nostre attività produttive, a tutti coloro i quali sono i lavoratori che in questo momento si trovano in grave difficoltà. Truffe online con lo scopo di sottrarre soldi a persone ignare. È successo ad Agrigento che dopo aver cliccato su un sms con allegato un link si è visto addebitare tre pagamenti per acquisti mai fatti. Sull'episodio indaga la polizia postale ma a noi ce ne occupiamo nel servizio. Il fenomeno delle truffe sta ormai assumendo dimensioni preoccupanti e da tempo ormai le truffe viaggiano speditamente anche sul web. L'ultimo episodio riguarda un agrigentino che ha ricevuto un messaggio sul telefonino senza pensarci due volte, ha aperto il link che gli era stato inviato. Un passo falso, certamente fatto senza riflettere, che gli è però costato caro perché qualcuno a sua insaputa gli ha debitato sulla sua post pay tre pagamenti fatti su siti internet esteri. Vittima di quella che è una nuova tipologia di frode informatica, una frode che sembra stia prendendo sempre più piede negli ultimi tempi, come si diceva, un uomo di agrigento. È stato lui, dopo aver scoperto i tre addebiti per spese mai sostenute, a rivolgersi all'ufficio denunce della questura di agrigento. I poliziotti della sezione volante hanno raccolto la denuncia a carico di ignoti e trasmetteranno tutti gli elementi raccolti alla polizia postale che naturalmente avvierà le indagini per stabilire laddove è possibile chi e come ha effettuato la frode informatica. Si tratta di un sistema attraverso il quale i truffatori riescono ad accedere ai dati sensibili della persona, a rubare le credenziali delle carte prepagate e a prosciugare i conti. Stessa identica cosa nei giorni scorsi era accaduta anche ad una donna residente ad agrigento. La signora si era vista debitare tre rate da 99 euro ciascuna sulla post pay evolution per acquisti fatti anche in questo caso su siti internet stranieri. Il consiglio chiaramente è quello di non cliccare mai su questi link. Menfi, l'amministrazione comunale non esternalizzerà la gestione dei contatori idrici. La conferma ieri sera durante l'incontro tra Comitato Civico, Acqua Pubblica, Amministrazione, Consiglio Comunale ed Exi Sindaci. Sentiamo. Retromarcia dell'amministrazione comunale di Menfi sulla gestione esternalizzata dei contatori idrici. Ieri sera si è svolta al centro civico di Menfi l'assemblea convocata dal sindaco Marlena Mauceri per discutere della vicenda che ha suscitato polemiche dopo la notizia di una proposta di project financing di una società di Roma per la gestione del servizio contatori. Sulla vicenda c'è stata una netta presa di posizione del Comitato Civico Acqua Pubblica che intravedeva nella proposta un tentativo di privatizzare il servizio idrico a Menfi. Proteste sono arrivate anche dal gruppo consigliare di minoranza che ha subito chiesto il sindaco di mettere fine ad una fase di valutazione della proposta. Erano presenti oltre rappresentanti del Comitato anche gli ex sindaci Michele Botta, Enzo Lotà e Nino Buscemi. Il sindaco Mauceri ha ribadito la volontà della sua amministrazione di proseguire il percorso di chi l'ha preceduta. Ci sono stati gli interventi nelle relazioni dei tecnici, l'amministrazione comunale ha confermato l'impegno di archiviare con delibera di giunta il project financing e di dare priorità alle problematiche che riguardano il servizio idrico integrato comunale ampliando il coinvolgimento alla cittadinanza. Nell'incontro di ieri sera al centro civico l'amministrazione ha inteso condividere e condividerà i percorsi intrapresi in collaborazione con il contributo dell'intero consiglio comunale dei cittadini, degli ex sindaci e del Comitato dell'Acqua Pubblica per il raggiungimento del riconoscimento ufficiale della gestione autonoma dell'acqua pubblica, ha dichiarato il sindaco Marilena Mauceri. L'acqua è un bene comune, la salvaguardia e la tutela di questo bene prezioso non ha colore politico. La città di Menfi ha una tradizione storica di gestione diretta, autonoma e pubblica del servizio idrico. Noi tutte abbiamo il dovere morale di lavorare in continuità mettendo in atto percorsi virtuosi che consentiranno la gestione autonoma del servizio, ha concluso Marilena Mauceri. Soddisfatto il Comitato Acqua Pubblica e Gestione Diretta. La comunità di Menfi dichiara il Comitato ieri sera ancora una volta ha dato un grande esempio di democrazia partecipativa. Non è stato ancora messo in funzione l'adduttore Gammauta che dovrebbe trasferire l'acqua per usi irrigui dall'invaso di Palazzo Adriano a quello di Bivona, utilizzato dagli agricoltori del comprensorio del verdura. L'adduttore rischia di trasformarsi in una cattedrale nel deserto. inaugurato nel 2011 e costato quasi 25 milioni di euro. In dieci anni è stato messo in funzione pochissime volte, nonostante le frequenti siccità che hanno messo in ginocchio le aziende del settore e del versante occidentale della provincia di Agrigento. Ma c'è il servizio? Non è entrato ancora in funzione l'adduttore Gammauta che dovrebbe trasferire l'acqua per usi irrigui dalla diga di Palazzo Adriano alla diga Castello di Bivona, a cui mancano tuttora almeno 7 milioni di metri cubi di acqua per giungere ad un livello che possa soddisfare il fabbisogno idrico del comprensorio agricolo del verdura. Dovrà intervenire l'Enel, come da richiesta effettuata la settimana scorsa dai sindaci dell'area Soso e Verdura Gebbia ai vertici della regione siciliana. Al di là del caso specifico, però, la faraonica opera, denominata adduttore Gammauta, tanto utile quanto costosa, rischia di trasformarsi in una cattedrale nel deserto. Inaugurata nel 2011, dopo un lunghissimo e pachidermico iter burocratico, e costata quasi 25 milioni di euro di soldi pubblici, nel corso di questi dieci anni è entrata in funzione pochissime volte, e questo nonostante la perdurante siccità che ha investito nel tempo il versante occidentale della provincia di Grigento. Il collegamento idrico Gammauta-San Carlo-Castello in un batter d'occhio potrebbe risolvere il problema dell'approvvigionamento irriguo per gli agricoltori di Ribera, Bivona, Luccasicula, Villavrancasicula, Alessandria della Rocca, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta e Cattolica Ereclea. Non solo, la stessa acqua potrebbe essere utilizzata anche per usi civili, specie in quei comuni serviti dagli acquedotti Voltano e Tresorgenti. Il tutto a costo zero, sia perché gli impianti sono funzionanti, sia perché l'acqua scende a valle per caduta naturale. Invece, niente di tutto questo, l'acqua non viene immagazzinata, e addirittura quella del fiume Verdura si disperda in mare, poiché a valle non è stato mai progettato e realizzato nessun invaso artificiale. L'adduttore Gammauta-Castello è entrato pochissime volte in funzione, perché in qualche sporadico anno la portata delle piogge è stata tale da riempire in modo naturale la diga-castello attraverso le sorgenti e i torrenti dell'area del magazzolo. Mentre, per la maggior parte delle volte, perché ci sono troppi enti da mettere d'accordo, tra Enel, Regione Siciliana, Consorzio di Bonifica di Grigento, Comuni e associazioni di categoria agricole, e per trovare la quadra servono troppe riunioni e tavoli tecnici, oltre agli accordi sul costo finale che gli agricoltori delle varie zone devono pagare per garantirsi l'acqua per usi irrigui. La diga-castello di Bivona può contenere fino a 21 milioni di metri cubi di acqua e serve un territorio agricolo di oltre 12 mila ettari tra agrumete e frutteti, sparsi in una decina di comuni. Territorio agricolo in espansione, tra l'altro, grazie alla nascita di tante nuove aziende ad imprenditoria giovanile. Una questione da affrontare con urgenza per non continuare a sprecare acqua e denaro pubblico. Anche il Comune di Burgio porta avanti delle iniziative con la formula della democrazia partecipata. Quest'anno sono due progetti scelti dall'amministrazione guidata dal sindaco Francesco Matinella. Uno riguarda la sistemazione della viabilità urbana del centro storico, l'altra l'installazione di inserti in ceramica e di porta biciclette in vari punti del paese per finanziamenti complessivi che sfiorano i 20 mila euro. Sentiamo. La sistemazione messa in sicurezza della via Baglio-San Luca è l'installazione di posacenere in ceramica e porta biciclette in vari punti del paese. Sono questi due i progetti finalisti a Burgio per quanto riguarda le azioni da mettere in atto attraverso la formula della cosiddetta democrazia partecipata. Queste le due proposte ritenute ammissibili. Lo rende noto il sindaco di Burgio, Francesco Matinella. Le due proposte saranno sottoposte alla valutazione dei cittadini residenti nel comune di Burgio, attraverso votazione tramite apposita modulistica da scaricare presso il sito istituzionale del comune o da ritirare presso l'ufficio protocollo dell'ente. Le operazioni di votazione, afferma il sindaco Matinella, si potranno effettuare entro e non oltre il 22 marzo. Si tratta di due progetti interessanti e entrambi potranno migliorare la vivibilità della nostra comunità. La formula della democrazia partecipata è interessante perché permette a tutti i cittadini di diventare parte attiva e di formulare le loro proposte e vederle poi realizzate, come è già accaduto negli anni precedenti, conclude il sindaco Matinella. La sistemazione dell'arteria stradale Baglio San Luca da Via Nazionale a Salita Torre costerebbe 8.700 euro, mentre l'installazione di posacenere in ceramica di Burgio, contenitori per la raccolta differenziata e di porte e biciclette in vari punti del paese costerebbe 8.000 euro. Al termine del periodo di votazione si riunirà il tavolo tecnico-politico per eseguire le operazioni di scrutinio. L'opera, che riceverà più voti, sarà finanziata interamente dal comune di Burgio. Qualora i progetti dovessero riportare lo stesso numero di voti, invece, l'ente suddividerà il budget disponibile tra le proposte in parti uguali. E adesso la rubrica sul libro da leggere a cura della Mondadori di Sciacca. Non è una questione di professioni di fede, di teologie o di superstizione. Più semplicemente angeli e diavoli entrano in gioco ogni qual volta ci imbattiamo in esempi di bene e di male, di virtù e di peccato, di obbedienza o di ribellione, alla stregua di figure o maschere utilizzate dal nostro pensiero per interpretare la realtà secondo uno schema dualistico. Bianco e nero, luce e ombra, paradiso e inferno. Eterni simboli del bene e del male, rappresentazioni della virtù e del peccato. Angeli e diavoli sono i contrappesi della bilancia che tiene in equilibrio la creazione. Nell'immaginario comune gli uni sono vestiti di luce e associati alle sfere celesti, gli altri avvolti di caligine e legati al mondo sublunare. I primi votati all'obbedienza, i secondi alla ribellione. Tuttavia non è sempre così. Talvolta le loro caratteristiche sembrano quasi scambiarsi, sollevando profondi interventi interrogativi. E' più ribelle Satana, che rese il genere umano consapevole di sé attraverso il peccato originale? Oppure l'arcangelo Gabriele, che a un certo punto è divenuto quasi Dio? E' più obbediente l'angelo che svelò a Nicolás Flamelli i segreti dell'alchimia? O il diavolo che fece l'accordo con Teofilo? Da un lato l'ineffabilità della grazia, dall'altro l'odore dello zolfo, una sfida che appassiona l'uomo fin dalla notte dei tempi. Simoni ce la racconta e la illustra con i suoi disegni. Angeli e diavoli, l'obbedienza e la ribellione. Di Marcello Simoni, edito e in Audi. Termine a qui il nostro telegiornale. Anche oggi grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Buon proseguimento di giornata.